Dieci minuti di blackout costano la partita alla Fidelisandria sul neutro di San Pancrazio Salentino. Festeggia il Gallipoli che torna alla vittoria dopo dieci giornate e lo fa nel giorno dell'esordio in panchina di Francesco Di Gennaro, scelto come allenatore ad interim dopo le dimissioni di Carrozza. Di Sansò, autore di una doppietta dal dischetto e oltre Marini, i gol che valgono il 3-2 finale e i tre punti per i giallorossi, firme che vanificano il vantaggio bianco-azzurro con Jefferson. Le formazioni Di Gennaro senza benvenga e frucci in difesa cambia modulo e passa al 4-3-3. In attacco c'è Sliti con Artigas e Tommasone mediana affidata a Capitan Scialpi con l'esordio del neo arrivato Zappacosta. Fidelis che conferma undici undicesimi della formazione che aveva schiantato il Santa Maria Cilento nel turno precedente. Il trio Sasanelli-Strambelli-Burzio ispira Scaringella in mezzo al campo. C'è ancora Bottailico con Feola, primo tempo che scivolerà via senza grandi impegni per i due portieri. Il primo tentativo è di Bianco, sinistro dai 25 metri, tiro cross che termina sul fondo senza deviazioni amiche. Poi il Gallipoli prova a far male in contropiede, Artigas scippa il pallone a Bottalico, Scialpi aziona Zappacosta, cross per Artigas che sul dischetto stacca a lato. Ci prova poi Scialpi dei 30 metri, Fratti blocca in due tempi, proteste della Fidelis al ventesimo. Per questo contatto in aria tra Bianco e Scaringella per l'arbitro Dini, tutto regolare. Poi è Scialpi a salvare su un cross di Scaringella dopo una combinazione Strambelli-Burzio. Farina prova ad accelerare, allora passa al 4-3-1-2 abbassando Sasanelli-Mediana. Strambelli prova a rompere gli equilibri su calcio di punizione, c'è la potenza, non la mira. Problema muscolare per Zappacosta al 36esimo, al suo posto Sansò sarà un protagonista del match. Tutta altra storia nella seconda parte di gara. Si parte con Strambelli che guida un contropiede, non serve Sasanelli e Scaringella e calcia dal limite. Centrale passa a seo blocca, poi ancora Strambelli aziona Bursio, deviazione di Trinchera, il 9 calcia al volo ma non trova Scaringella, questione di centimetri. Di Gennaro richiama poi un nervoso Artigas per oltre Marini, mossa che risulterà decisiva. C'è anche il Gallipoli, Sliti salta secco, Padalino a destra e assiste Sansò, controllo e destro alto da ottima posizione. Poi su un cross di Bianco proverà a mettersi in proprio Sliti, il 17 anticipa Padalino ma non trova la porta. Ci prova infine Tommasone al volo su cross di Sliti, Fratti è fenomenale, ci mette la punta dei Guantoni ed evita il peggio. Farina inserisce a questo punto Giambuzzi per Telera, ridisegnando la difesa con Padalino al centro, al primo pallone giocato. Proprio Giambuzzi crossa per Jefferson che anticipa De Nova, centro area e batte di testa, passa seo, 0-1 e primo gol con la Fidelis per l'attaccante ex Catania. Partita in ghiaccio, tutt'altro, 4 minuti e il Gallipoli beneficia di un calcio di rigore. Oltre Marini approfitta di un'indecisione sull'asse Padalino, Fratti, contatto con il portiere. Dal dischetto ci va Sansò che spiazza Fratti, 1-1. Quattro minuti dopo è ancora il Gallipoli, si ripresenta dagli 11 metri, questa volta tra le proteste della Fidelis. De Nova colpisce di testa su corner di Scialpi, secondo l'arbitro Dini c'è un tocco con il braccio di Jefferson. Sansò questa volta cambia angolo ma non l'esito, 2-1 Gallipoli. Nervi tesissimi in campo, Jefferson prova a replicare di testa su invito di Giambuzzi da destra, questa volta non c'è la mira. Burzio poi invita Jefferson in aria, colpo di testa e bravo passa seo a bloccare in tuffo. All'ottantasettesimo fa trissi il Gallipoli. Sui sviluppi di una punizione per la Fidelis, Padalino perde il pallone sulla trequarti. Scialpi serve oltre Marini che scatta in posizione regolare, entra in aria da sinistra e batte Fratti con un diagonale. 3-1, la reazione della Fidelis arriverà troppo tardi, nei sei minuti di recupero. Prima Feola fa da sponda per Donida che dal dischetto calcia alto, poi ci prova Sansò dall'altra parte. Deviazioni in corner, sui sviluppi del tiro dalla bandierina ancora Sansò calcerà con il sinistro, trovando il palo a Fratti battuto. Al 94esimo la Fidelis fa 3-2, punizione tagliata di Strambelli che non trova deviazioni avversari o nemiche e finisce dritta in rete. Non c'è più tempo, la Fidelis con quita d'amo per l'infortunato Jefferson proverà l'ultimo assalto ma senza esiti. Secondo K.O. in campionato per la squadra di Francesco Farina che saluta temporaneamente il terzo gradino del podio. Il silenzio stampa indetto dal club a fine partita è termometro delle riflessioni in corso. Domenica sarà derby al Degli Olivi contro un Barletta fresco di sorpasso in classifica. Il Gallipoli invece abbandona l'ultimo posto e si prepara con il sorriso alla sfida salvezza sul campo della Palmese.